Accompagnare la trasformazione del settore auto, evitando che crollino economia e posti di lavoro nelle regioni che produrranno motori endotermici, è l'obiettivo dell'intesa siglata oggi in Germania tra le 29 regioni europee delle automotive, tra cui le regioni italiane Molise, Abruzzo, Basilicata, Emilia, Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. Un giorno importante culminato nella Costituzione dell'Alleanza di Lipsia alla presenza del commissario europeo Nicholas Schmidt che ha ribadito l'importanza della salvaguardia e del rafforzamento del settore automobilistico anche per salvaguardare centinaia di migliaia di posti di lavoro. Tutti i rappresentanti delle regioni italiane hanno convenuto con i colleghi europei sull'importanza di riqualificare il personale e della ricerca e innovazione anche attraverso soluzioni basate sul concetto di neutralità tecnologica, i combustibili biologici a basso contenuto carbonico, i combustibili sintetici ed i motori endotermici ad idrogeno. Anche se al centro, lo ha ribadito il governatore Toma nel corso del colloquio con Schmidt, resta il lavoro. Particolare attenzione, dicevo, alla occupazione e alla tenuta sociale, la transizione ecologica, il passaggio dal motore a scoppio al motore elettrico non deve comportare assolutamente la perdita di posti di lavoro. Sull'altare della transizione non si possono sacrificare competenze e capacità e soprattutto una leadership conquistata in cento anni di ricerca, innovazione e scelte imprenditoriali. Si dovrà cercare di mantenere questa leadership guidando il cambiamento e non facendosi indicare la strada tecnologica da sistemi industriali di altri continenti. La posizione delle regioni italiane è risultata univoca e sarà previa condivisione con il governo italiano, oggetto di discussione al Parlamento europeo e alla Commissione europea direttamente a Bruxelles nelle prossime settimane.